Anche i ladri cambiano le abitudini e i furti cominciano a commetterli in pieno giorno, come è accaduto sabato scorso per quello commesso al caffè Porta Napoli, inviare i carpentieri a Brindisi. Come altre probabilità, il furto è stato messo a segno nell'ora per la chiusura della pausa pranzo e il titolare del bar si è accorto di quanto accaduto solo dopo le 16. Il bottino è composto da denaro contante contenuto nel registratore di cassa e da monetine dello slot machine e si aggira intorno a 200-300 euro. Maggiore danno invece è stato sicuramente quello arrecato alle macchinette slot scassinate. I ladri per entrare in azione hanno forzato la saracinesca e hanno agito indisturbati nonostante le prime ore pomeridiane. Visto l'orario della pennichella, ovviamente neanche a dirlo, nessuno si è accorto di niente.